Ciao a tutti, ben ritrovati. Ieri sera c'è stata l'annuale WWDC di Apple 2019, per chi non lo sapesse, è la convention annuale dei sviluppatori tenuta appunto da Apple per presentare le proprie novità relative ai software di casa Apple, sistemi operativi, eccetera. Ieri sera invece c'è stata anche qualche novità di carattere hardware. Dunque, se state dicendo ma cosa c'entra con la fotografia il WWDC, non mi interessa, ci sono delle cose che riguardano la fotografia e un annuncio in particolare mi ha fatto saltare dalla sedia, da quanto insomma mi ha entusiasmato e non vedo l'ora di provarlo, ma procediamo con calma e vi faccio un po' un riassunto un pochino veloce, anche perché alcuni argomenti forse non interessano più di tanti. È stata veramente una bella convention, alcune cose marginali, altre invece veramente molto molto interessanti. TVOS, per chi ha una Apple TV, si avrà finalmente il multiutente, quindi in casa ognuno avrà esperienza TV personalizzata in base all'accesso utente, con un App Next, che è una specie di consiglio sui prossimi spettacoli da poter guardare. È stato ridisegnato anche il layout di Apple TV, inoltre Apple Arcade sarà disponibile appunto su TVOS, ma attenzione, la cosa più bella e interessante è che Apple ha aperto i joystick di terze parti, significa che con i controller dell'Xbox e della Playstation potremo giocare sulla nostra Apple TV, una cosa veramente fantastica per chi gioca. Questo significa che probabilmente Apple TV verrà sfruttato un po' di più con dei giochi magari un pochino più sostanziosi, anche perché a guardare i giochi della Playstation 4 c'è veramente da ribaltarsi e quanto sono belli. Non sono un giocatore, ma sono a dir poco impressionanti. Parliamo di Apple Watch, con il nuovo Watch OS, che introduce alcune piccole novità, alcune un po' più interessanti, come per esempio un suono che ti notifica il cambio dell'ora, presumo che sia disabilitabile. Ci saranno nuove applicazioni come audiobooks e note vocali e anche la calcolatrice direttamente sul telefono. Direttamente dall'Apple Store si potranno scaricare le app sul nostro Apple Watch e che non saranno più vincolate a quelle che sono presenti invece sul nostro iPhone. Inoltre ci sarà l'Activity Trends, cioè le nostre attività quotidiane saranno monitorate, si potranno fare delle comparazioni tra un periodo e l'altro. Inoltre un'applicazione che si chiama Rumore ci indicherà quanti decibel stiamo in qualche modo ascoltando con il nostro Apple Watch e di conseguenza anche con le nostre orecchie. Inoltre l'applicazione salute di iOS è stata ridisegnata. Alcune novità riguardanti il nuovo cinturino Pride che si abbinerà al nuovo quadrante. Novità abbastanza interessanti ma che non ci cambiano effettivamente così tanto la vita. Ecco qua. iOS 13, veramente tantissime novità, speriamo che non riesca a dimenticarmene qualcuna. Dunque sicuramente la più interessante, che non è neanche tanto da sottolottare, la Dark Mode, quindi finalmente arrivata anche sul nostro iPhone, sul nostro iPad, la Dark Mode che ci dà la possibilità di avere una visualizzazione scura della nostra interfaccia durante le ore notturne o quando vogliamo noi. Inoltre ci sono delle importanti novità per quello che riguarda la presentezza delle applicazioni, che a quanto pare potrebbero essere il 50% più leggere e il 60% invece più leggeri gli aggiornamenti. Dovrebbero essere anche il doppio più veloce in avvio, durante l'avvio insomma delle nostre app. Per quello che riguarda anche la tastiera è stata aggiornata, adesso c'erano già delle app che facevano la stessa cosa, però adesso è possibile disegnare praticamente senza staccare il dito sulla nostra tastiera e comporre direttamente la parola, senza sollevare appunto il dito. Vediamo se anche sulla tastiera italiana sarà possibile. L'applicazione di foto è stata assolutamente cambiata con un'esperienza, è stato fatto vedere un video, un'esperienza utente completamente diversa, riorganizzata in maniera intelligente per anni, per momenti. Ci darà anche la possibilità di riuscire a eliminare le foto doppie e capirà non so in che modo quali foto effettivamente sono più belle rispetto ad altri che potrebbero essere deduplicati. Inoltre c'è anche la possibilità adesso nel portrait mode, nel momento in cui scattiamo le fotografie, di cambiare il tipo di intensità di luce che ci troviamo in faccia. Inoltre anche la modifica delle singole foto ha dei comandi, delle slide un pochino più sofisticate, come potrebbe essere in Lightroom, le luci, ombre eccetera. È interessante vedere appunto come funzionerà. Anche note e mail saranno comunque cambiate, ci sarà una specie di, nei promemori ci sarà una specie di intelligenza artificiale che andrà a categorizzare le nostre note. Anche in questo caso è tutta teoria, quindi bisognerebbe vedere effettivamente poi come va a funzionare. Grosse novità anche per mappe che introduce il 3D che sostanzialmente non è altro che lo street view di Google. Comunque è veramente fatto, fatto molto, ma molto, ma molto bene. Anche per quel che riguarda Google Home, scusate Google Home, HomeKit di Apple, finalmente ci sarà la possibilità di filtrare gli accessi cloud esterni di modo da avere una maggiore privacy. Non mi sto a soffermare più di tanto, ma ci sarà la possibilità di gestire i nostri dispositivi Apple Kit compatibili con maggiore sicurezza appunto per la nostra privacy. Per quel che riguarda i message ci sarà la possibilità di visualizzare un emoji praticamente personalizzata sulle persone che ci inviano un messaggio. Adesso non c'è nessun emoji, però nel momento ho nessuna immagine comunque. Adesso invece ci sarà la possibilità di mettere un'immagine o un'animoji o emoji direttamente sulla persona che abbiamo in rubrica e che ci manda appunto questi messaggi. Idem per i memoji stickers, molto carina questa cosa, anche se vabbè, ok, non è che ci cambierà la vita, però è interessante, visto che comunque le emoji sono entrate a far parte della nostra vita in maniera abbastanza dirompente. Potremmo creare delle emoji direttamente basandoci sulla nostra faccia e queste andranno ad aggiungersi alle emoji che normalmente già abbiamo noi, quelle sulla tastiera sostanzialmente. Foto e video, quello che dicevo prima, interessante novità anche per quel che riguarda la ripresa fotografica e i video, video che potranno essere ruotati, cosa che non si poteva fare prima. Quindi potremmo regolare brillantezza, ombre, contrasti, saturazioni e altre opzioni, come avevamo già detto. E, scusate, credo di essere arrivato a tutte le novità possibili e immaginabili, le abbiamo dette su iOS. Ma l'iPad ha un suo sistema operativo, che non sarà più iOS, ma sarà iPadOS. Ricco di nuovissime funzioni, tra cui il Multiview, una specie di expose, quello che c'era prima su Mac, che ci farà vedere tutti i documenti aperti dalla nostra singola applicazione. Le nostre applicazioni potranno essere messe di fianco una all'altra in un multitasking molto più approfondito. L'applicazione File finalmente è stata, come dire, aggiornata. Ci sarà la possibilità di attaccare delle SD card e delle chiavette USB direttamente nella porta USB-C dei nuovi iPad Pro e praticamente diventa nient'altro che un finder su Mac. Inoltre, iCloud adesso ci dà la possibilità, la iCloud, di condividere anche le cartelle, quindi sostanzialmente quello che si poteva già fare con Dropbox. Safari diventa un desktop. Significa che quando apriremo una pagina non sarà più una pagina per un dispositivo mobile, ma sarà una pagina per un dispositivo desktop, come ce ne sono altre. Quindi si aprirà immediatamente come su Safari e su Mac. Interessante il fatto che faremo un copia con 3D, scusate, con 3D da così su nostro dispositivo, una volta che avremo selezionato il testo, così potremo fare l'incolla e così potremo praticamente fare un annulla. Nuove novità anche per quel che riguarda Apple Pencil, che attualmente ha una latenza che è tra le più basse, forse la più basse in assoluto, per qualunque dispositivo, insomma, che è un 20 millisecondi. L'hanno abbassato ulteriormente a 9 millisecondi. Una cosa veramente impressionante e, onestamente, la novità che vi dirò poi dopo sarà quella che probabilmente mi farà passare anche ad un iPad Pro. Ulteriori novità. Apple presenta due mostri. Due mostri che sono un Mac Pro e un Display Pro XDR. Il nuovo Mac Pro sostanzialmente è come i vecchi Mac che c'erano diversi anni fa, prima del cilindrone. Ha delle caratteristiche che non sto neanche a elencarvele, perché è una roba veramente impressionante. Vi dico solo che il processore ha un 28 core da 300 watt di potenza. 6 canali fino a 1,5 terabyte di memoria RAM, 8 slot PCI Express. Riesce a fare lo stream contemporaneo di 3 video 8K, cioè una cosa veramente mostruosa. Anche il video ha un display in retina 6K da 32 pollici in HDR. Che è anche orientabile verticalmente in portrait mode. Ed è il migliore LCD creato da Apple. E allora, viene venduto a quanto pare senza lo stand. Che costa 1000 dollari solo lo stand. Infatti c'è stato un boato quando hanno annunciato il prezzo appunto dello stand. Dunque, il Mac Pro costerà soltanto 6.000 dollari, 5,999, mentre il display è soltanto 4,999. Allora, mi soffermo un attimo su questi dati. Io lo so che qualcuno potrà dire, eh sì, è una cosa, sono dei prezzi fuori dal mercato, fuori di qua, fuori di là. Il Mac Pro e questo display non sono nemmeno per i professionisti, neanche per il libro professionista. Sono per i grossi studi, ok? Chi lavora con Logic Pro, ho fatto vedere un video in cui si vede appunto Logic Pro che ha centinaia, non per mo' di dire, ma centinaia di strumenti che suonano tutti contemporaneamente. Grossi studi video e grossi studi produzione audio. Quindi è dedicato a chi investe in un'unica stazione, attenzione perché questi studi hanno già delle grosse stazioni che purtroppo sono suddivise perché comunque la potenza di calcolo non è sufficiente diciamo acquistando soltanto un dispositivo. In questo caso abbiamo un dispositivo che non costa un'esagerazione se confrontato ad altri dispositivi che ci dà la possibilità di avere tutto lì. Quindi prima di cominciare a dire che i prezzi sono fuori di testa, riflettiamo bene a chi è destinato questo tipo di strumento. Pensate una cosa, un camion, una motrice non costa 10.000 euro, 20.000 euro come una macchina, un'automobile, ne costa molto, molto di più, ma non è destinata all'automobilista, è destinata a qualcuno che quella motrice la fa fruttare probabilmente, trasportando delle merci. Quindi idem questo dispositivo, questo Mac Pro, non è destinato a chi ci gioca o non è in grado di ammortizzarlo, ovvio. Ma arriviamo al clou, perché secondo me anche da un punto di vista fotografico questo è molto più interessante, il nuovo sistema operativo Mac. Si chiamerà Catalina, il nome non è neanche tutto sommato male, si riferisce a una striscia di terra della California, una zona. Allora, novità interessanti, ovviamente hanno aumentato la velocità, bla bla bla, eccetera. Non ci sarà più il Find My Friends, il Find My che si poteva trovare sui dispositivi iOS, ma adesso ci sarà il Find My, che è un'applicazione che riunisce un pochino tutti, anche desktop, che si potrà appunto trovare in questo nuovo Catalina. Inoltre, un nuovo progetto che si chiama Project Catalyst, molto interessante per gli sviluppatori, perché potranno compilare in una sola volata, praticamente, un'applicazione che prima girava su iPad e iPhone, adesso, invece, potranno compilarla e farla girare direttamente anche su Mac. Cosa molto interessante, infatti, testimoniano diversi sviluppatori, finalmente non saremo costretti ad avere uno staff di doppi sviluppatori, cioè per iOS e per macOS, ma ce ne basterà soltanto effettivamente uno che svilupperà effettivamente tutto. Novità anche per quello che riguarda Swift, che è il linguaggio appunto di programmazione di Apple, che è stato completamente riscritto, però su questo onestamente non mi soffermo, perché è una cosa che onestamente non mi interessa, riguarda più che altro gli sviluppatori, ma ecco la cosa più bella in assoluto. Quando l'hanno annunciato, mi sono ribattato sulla sedia. Sidecar. Cos'è un sidecar? Lo sapete tutti cos'è un sidecar, ma sidecar in Catalina sarà la possibilità di estendere il proprio monitor del Mac direttamente su un iPad. Non è dato sapere quali iPad, ma ancora di più, e questa è la cosa ancora più bella, che se avete un Apple Pencil, quindi un iPad compatibile con Apple Pencil, il vostro iPad diventerà una tavoletta grafica, né più né meno. Ora, qualcuno potrà dire sì, ma ci sono già delle app che fanno questa cosa qua. È vero, io le ho provate onestamente tutte, e tutte hanno dei lag, e danno un'esperienza utente veramente pessima. Quindi io uso tuttora una tavoletta grafica Wacom, non con display, perché costano veramente l'ira di Dio, ma al posto comunque dell'iPad, perché l'esperienza assolutamente non è soddisfacente. Presumo che essendo Apple, l'esperienza sarà assolutamente ottima. Non vedo l'ora di provare questa cosa, perché effettivamente con un iPad, che comunque tutto sommato non costa poco un iPad Pro, diciamocelo, avremo la possibilità di avere in mano una tavoletta che può essere comparabile alle Wacom Sintiq, che si chiamano Sintiq, quelle con display, e tutto in wireless o magari via cavo. Questo non è ancora stato specificato, ma è presumibile che sarà via wireless, molto, molto probabile. La configurazione non è data a sapere, quindi non sappiamo se sarà configurabile come per le tavolette Wacom, che hanno la possibilità veramente di personalizzare la tavoletta a seconda del tipo di programma, in una maniera quasi, oserei dire, infinita. Quindi vediamo un po' Apple cosa farà con questo nuovo Sidecar, che è un'app appunto che a quanto pare emulerà quella che è la tavoletta o l'estensione del display. Io ho già provato altre volte l'estensione del display, ma i lag sono veramente troppo lunghi, cioè quindi io mi aspetto che Apple faccia qualcosa di molto, ma molto, ma molto più fruibile, ecco, diciamo fruibile. Queste sono sostanzialmente le novità del WDCC. Ho cercato di andare velocissimamente, perché sennò diventava un video più lungo, già più di quanto non ne faccio di lunghi di video, però anche da un punto di vista fotografico ci sono delle grosse e interessantissime novità, appunto quelle legate al nuovo sistema operativo e probabilmente anche all'esperienza utente del nuovo iPadOS. iPadOS, vi ricordo che l'iPad è nato con un suo sistema operativo che poi è stato unificato effettivamente con iOS. Adesso si sgancia ancora ed è un sistema operativo a sé, che evidentemente strizza un pochino l'occhio ai convertibili che ci sono in commercio adesso. Una cosa che non vi ho detto è stata scoperta, non è stata annunciata ieri, la compatibilità con un mouse esterno. Quindi è probabile, molto probabile, che i prossimi iPad avranno magari un trackpad nella tastiera, quella esterna, e voglio vedere come funzionerà appunto questo mouse attaccato al nostro Mac. Mouse che ovviamente sarà un mouse presumibilmente Bluetooth, non mi vedo un mouse attaccato, l'USB-C 1219, ormai il Bluetooth regna. E tutto qua. Quindi come al solito vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciarmi un commento, condividere il video e dare un'occhiata al canale Telegram sotto in descrizione di offerte fotografiche e non, e ci ficco dentro anche materiale Apple. Iscrivetevi appunto a questo canale, per oggi il video è finito e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!